Cari amici cintani, Odelsi Tumenza. Molti di voi vengano da lontano e hanno fatto un lungo viaggio per arrivare qui. Siate benvenuti. È arrivato il tempo di sradicare pregiudizi secolari, preconcetti reciproche e diffidenze che spesso sono alla base della discriminazione, del razzismo e dell'axenofobia. Permettiamo quindi che il Vangelo della Misericordia scuota le nostre coscienze e apriamo i nostri cuori e le nostre mani ai più bisognosi e ai più emarcenati, partendo da chi ci sta più vicino. Vedo qui in aula molti giovani e molti bambini. Sono il futuro del vostro popolo, ma anche della società in cui vivono. I bambini sono il vostro tesoro più prezioso. La vostra cultura oggi è in fase di mutazione. Lo sviluppo tecnologico rende i vostri ragazzi sempre più consapevoli delle proprie potenzialità e della loro dignità e loro stessi sentono la necessità di lavorare per la promozione umana, personale del vostro popolo. Questo esige che sia loro assicurata un'adequata scolarizzazione. E questo dovete chiederlo. È un diritto.